Vi ricordate ragazzi? Avevo trasformato due villager Ops Ciao a tutti ragazzi Qui è Bluelight e benvenuti oggi in questo nuovo video Oggi siamo qui in questo nuovo episodio di Minecraft Vanilla Allora Andiamo un attimo fuori dalla nostra casa E notiamo questa struttura Molto bella e molto grande Con molte porte Allora Questa struttura È stata fatta dal sottoscritto Bluelight Per i villager Allora questa struttura È Allora un 14x14 E ci sono 12 porte per lato E se vedete qui agli angoli non ci sono Perché diciamo che Non le conta come porte Che diciamo tra virgolette Servono i villager Allora I villager diciamo Sono diventati un bel po' Mi sa che sono 4, 8, 12, 16 sono E c'è naturalmente È spawnato un Iron Golem Questo Iron Golem però è spawnato A circa 14 Sì Tipo a 14 Villager che avevo Mi è spawnato l'Iron Golem Allora Ritornando alla struttura Questa struttura L'ho trovata sulla wiki di Minecraft E quindi L'ho rifatta nel mondo All'inizio Nello scorso episodio Avete visto che avevo Due villager E bene Ne ho trasformato un terzo Sempre con la mela d'oro E la pozione di Weakness E poi Mi sono messo Tipo in Peaceful Per trasportarli qui Perché appunto Stavano anche la torre Allora ci stavano sempre I zombie E eccetera eccetera Allora mi sono messo Un attimo in Peaceful E l'ho portati qui Con tanta tanta pazienza Allora Come vedete C'è dell'acqua Dentro la struttura Che appunto Diciamo che C'è un secchio d'acqua Ogni angolo Perché L'ho messa Quest'acqua Appunto per Riunirli Al centro In modo tale Che si potevano Diciamo Unire Potevano avere Dei rapporti Più facilmente Invece che tipo Agli angoli Poi si spostavano Invece là Stanno al centro Si guardano un attimo Si innamorano E fanno I piccoli villagerini Che adesso Nemmeno Vedo Quindi Sono cresciuti Sono cresciuti I diti Diti sono cresciuti Sono cresciuti tutti E come vedete Quelli bianchi Sono i Brarian Che sono Quelli un po' Diciamo Un po' più importanti E ce ne ho 5 Adesso Scendo E vi faccio vedere A 1 1 a 1 Cosa mi danno in cambio Allora Iniziamo da questo Allora questo vale 3 smeraldi Per Mi da Vale 3 smeraldi Per dei Stivaletti L'iron golem Non mi fa male Però ok Questo Uno smeraldo Ok Perché mi vengono Tutti addosso Questo non vuole Niente di che Questi sono uguali Ah no 3 smeraldi Questo Oh Questo è 8 di oro Oddio L'iron golem mi picchia Oddio No Tranquillo Tranquillo Via da qua Non posso Vai 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 Sali Metti questa cacchia di terra Ok Taci sua Che crocca Perché Non mi menava una volta Era mio amichetto Ok Non mi posso far vedere Cosa Ehm Danno i villager Perfetto Va bene Comunque c'era un villager Che se Non ricordo male Allora Uno voleva Un libro Scritto E mi dava Dei smeraldi E Un altro Voleva 12 libri E mi dava Uno smeraldo E Però quello Che ho trovato Diciamo Più interessante Voleva la carne Di maiale Cruda E mi dava Dei smeraldi Quindi era Un ottimo villager Per poi scambiare I smeraldi Con gli altri Allora Dato che l'iron golem Mi picchia Tu verrai ucciso Primo Cioè Mi hai dato una botta E quindi Verrai ucciso E Naturalmente Con questi villager E E Si formano i golem Vengono spawnati i golem Quindi Man mano che io Cioè Uccido un golem Dopo un po' Si ne rispauna un altro Quindi Posso fare Diciamo che questa è una piccola farm di ferro Perché appunto Posso farmi del ferro Uccidendo il golem E poi anche di fiorellini Perché il golem Oltre a droppare il ferro Droppa anche i fiorellini E Comunque E È anche un'ottima farm Diciamo Di qualsiasi tipo di mob Allora Per prima cosa I zombie Vabbè Stanno lì Davanti alle porte Provano a rompere le porte Ma dato che sono in normal Non le rompono Per fortuna Che se sono in hard Quelle le rompevano E stanno lì A guardare i villager Intanto io mi faccio i livelli Uccidendoli E Poi Vabbè Archeri in giro Ce ne sono sempre Pure i creeper E pure i ragni Una volta mi è entrato Pure un ragno dentro Allora Adesso mi sto facendo Questi slab Mi sono fatto uno stack Quasi due stack Per metterli Intorno Alla struttura Allora Intanto Che io metto I slab Ok Apri di porta Ok E vi dico che in pratica Ogni villager Diciamo Che vuole Tre porte Più o meno Quindi sono tre porte A villager Dato che io adesso Ne ho 16 Infatti Ho 48 porte Quindi Mi sa che adesso Non ne fa altri Non ci sono altri villager Quindi non fanno altri piccoletti Perché appunto Devo aumentare il numero di porte Quindi devo Vedere un po' Dove mettere queste altre porte Allora Mettiamo Cominciamo a mettere Questi slab Che in pratica Sono Da Si Fanno Una sorta di recinto Sono Una sorta di recinto Contro I mini zombie Perché i mini zombie Riescono a passare Poi vabbè Al massimo Stanno lei a rompere le porte Però mi danno fastidio Che arrivano fino a qua Le porte Magari poi c'è un bug Riescano ad entrare Questo minecraft Diciamo Per Evitare Queste Queste cose E' meglio mettere Appunto Questo recinto Di slab E Quindi L'iron golem Non so se No non credo di ucciderlo Adesso In puntata Perché ho paura Se io lo uccido Magari con l'arco Da qua sopra Vado a prendere il ferro Me ne spawno un altro E io crepo Già con una botta Nemmeno ho visto Quanti cuori Mi ha tolto Però mi ha dato Una bella botta E fortuna che ci sto all'acqua Se no riuscivo pure A prendermi A uccidermi Dato che poi Sto a 33 livelli Grazie appunto A tutti i zombie Che stanno qua Davanti alle porte Mi volevo incantare Qualcos'altro in diamante Quindi Finiamo qua Vediamo se mi bastano Questi slab C'è no 23 Non lo so Però questi C'è il rumore Che fanno i villageri E' troppo epico Quindi ormai Lo so neanche la notte Tutti i villageri Fanno Oh No Per poco E vabbè Andiamo a casa Andiamo a farci Gli altri slab Ok Intanto qui Ho aggiunto un altro maiale Perché stanno Stanno tutti là I maiali Cioè tutti Ne ho trovati due o tre Allora due L'ho portati qua E ne ho ucciso E l'ho fatti innamorare Innamorare Sì E ecco Hanno fatto l'altro Ho fatto un terzo E poi Ci sono quattro mucche Tre pecore Tre galline Tipo Sta bene Finché le galline non escono Io Per fortuna Le ritrovo Un giro per il mondo Gli do i semi E loro E poi le riporto nel recinto Però ogni volta Se ne vanno Allora Vediamo quanti slab Sei Facciamo così Visto che questo è un blocco Da solo Facciamone dodici Ok Prendiamo questi dodici slab E Andiamo Ok E Il lato Mi manca quel lato Ok Io ho paura Ho molta paura Di quel golem Allora Quest'angolo È rialzato Adesso vi faccio vedere Perché Appunto Io faccio così Dalla terra Salgo qua Vado sullo slab Salgo qui E riesco a vedere Tutti i miei villager Soltanto Che Si Devo Devo aumentare il numero di porte Perché vedete Adesso nessuno fa i cuori Sono tutti fermi Fanno niente C'è giusto l'iron golem Che mi dà un po' fastidio E quindi io adesso Proverò a ucciderlo Anche Anche se ha molto di vita Devo essere molto rapido Diciamo Eh però Aspettate Facciamo così Così scendo subito Ok Ho ucciso il golem Via via Prendi 4 di ferro Ok via da qua Via da qua Prima che ne spawno un altro Ok poi Ok adesso sono qui Sto tranquillo Un attimo Tanto non possono Uscire loro Oh Ci arrivo a qualche Vabbè questi L'avevo già visti Eccolo questo È quello che mi interessava 14 di carne E vuole Anzi E mi dà uno smeraldo Quindi Diciamo che va Bene come Come scambio Andiamo qua Rompiamo questo Usciamo Tra poco Spawnerà un altro Iron golem Ok Ok mettiamo Il blocco A sto punto Mettiamo due slab No Tanto ce l'ho Ok Tanto qua Sempre un blocco Ok E No ho sentito Un rumore strano Ok Andiamo a poggiare il ferro Andiamo a poggiare anche il slab Così Intanto Gli ho fatto vedere Cioè Tutto quello che ho fatto Cioè ho voluto davvero tanto Per spostarli Spostare solo i primi tre E poi Per fare tutta quella struttura Perché poi Solo la wiki Non la trovavo E quindi Ho dovuto girare un po' Un po' sul web Diciamo E Questi vanno sotto Ah Poi Vi volevo far vedere Come avevo sistemato le ceste Allora Qui ci sono tutti i drop Da quelli cattivi Tra virgolette A quelli buoni Nel senso Questi mi ritroppano i mob Quindi zombie Enderman Slime Eccetera eccetera Ragni Creeper E naturalmente arcieri E invece questi sono quelli degli animali E poi c'è la flint La flint Perché non sapevo dove metterla Qua ci sono Canne da zucchero Quindi roba per la farm E aspettate A sto punto Metto le due ossa Che c'ho qua Qui non c'è Una beata C'è qua Di qua nemmeno Quindi devo vedere Cosa metterci Di qua La lana La lana colorata E i coloranti E poi ci sta il red carpet Qua di qui Terra E devo metterci pure La cobblestone qua sotto Qua vabbè C'è la roba Cucinata E ho notato Che quando io metto La roba cucinata Non me la Non me la somma Diciamo Me la mette qua Random E io quindi poi La dovevo sistemare Ok Qua ancora non c'è niente Nemmeno di qua Qua c'è il ferro Che ho Tipo preso E ho preso Un po' di ferro Bucando la grotta Per prendermi la cobblestone Qui poggiamo i cobblestone slab E qua ci sono Diciamo Tutti i materiali particolari Quindi Arden and clay La clay colorata La mostone La sandstone Eccetera eccetera E poi qua c'è la roba Per i cavalli Quindi Le seddle La name tag E tutte le armature Ok Adesso saliamo Come vedete Sono in oro Perché Ho ucciso Un sacco di zombie E di arcieri Che avevano Roba in oro Vediamo un attimo Ah si Mi sono infil... Eh no Questo era il metto bluetto Ok aspettate un attimo Me lo metto Così sono Completamente in oro Ok Bello no? Ok E Gli stivaletti C'hanno Protection 2 Che Vabbè Non è nemmeno male Però vabbè Cioè Me li tengo Così si rompono Non ci faccio niente Invece Con il metto bluetto Lo so Il metto bluetto Allora Prendiamo 8 8 diamanti 8 8 diamanti E Ci facciamo Un bel petto In diamante E Visto che io Ho 33 livelli Andiamo a Incantare Il petto In diamante Qua ho messo i libri Ok Tasto destro Tasto destro Shift Con Il mouse Livello 30 Ok Ho fatto Ciò che Doveva fare L'enchanting table Adesso andiamo Piano piano Lentamente Molta paura Voglio Fire protection 4 E Thors 2 Epica Ok Fire protection Naturalmente Mi protegge dal fuoco Fire protection 4 Quindi Cado nella lava Cioè posso nuotare Tranquillamente nella lava Non mi faccio niente Anzi Cioè si però piano piano Mi toglie tipo mezzo cuore Poi si recupera Cose del genere E Thorns Thorns 2 Per chi non lo sapesse Tipo Quando un arciere Mi tira la freccia E poi Lui si fa male In pratica Thorns sono Delle specie di Possiamo dire Spuntoni Vabbè In pratica Sia con gli arcieri Che mi fanno Che si Quando sparo una freccia Si fanno male Sia quando tipo Un ragno mi viene addosso Si fa male E quindi anche Uno zombie O un creeper Però il creeper Non mi viene addosso Il creeper Mi scoppia addosso È diverso Ok Poggiamo qui L'armatura in diamanti Tanto per adesso Ancora non mi serve Peccato per questa spada Perché è uscita Con ben 90 Ops Che fa schifo Cioè Diciamoci la verità E Poi ho farmato Anche un po' di legno Soltanto che L'ho usato appunto Per fare le porte Perché 48 porte E Per una porta Ci vuole 6 di legno Capite che Ho dovuto usare un po' Appunto Di legno Ok Adesso vi faccio vedere Come i zombie Si Cioè Vengono tutti qui Tutti a guardare Oh si Villager Guardate No ancora non Stanno arrivando Sono tutti arcieri Però qua c'è uno zombie Uno zombie fermo? No ok Però poi Appena io da una botta Vengono tutti addosso a me All'inizio Loro stanno qua Guardano i villager E io Li guardo Poi appena Do una botta Uno Eccoli Appena io Do una botta Uno Vengono tutti Addosso a me Poi ci sono alcuni Che rimangono La Magari Vedono lo spettacolo Però io Quasi quasi Metto un biglietto Di entrata Questo albero È sempre più grande Quasi quasi Metto un ticket Ah si ecco Ho fatto una seconda Fila di alberi Appunto Per prendere Più legno Come vedete Tutto legno Ho Vediamo Vediamo Un po' di alberi No ok Sono normalissimi Guardate Allora intanto Prendo le canne da zucchero Scusate ma Visto che sono cresciute Prendiamole Stanno tutti in acqua E poi c'è pure Un bel lag Un grandissimo lag Quindi noi Prendiamo le canne da zucchero Chero Ok Vai 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 Quanto c'è No 30 30 7 38 Ok E poi vabbè Questi alberi Poi li rompo In modo tale Da prendere legno Dato che nelle ceste Ce n'ho poco Poco Pisto Questo zombie È quello di prima Che ho colpito Quindi adesso Lo uccidiamo Aia Sì però muori Magari adesso Sono morto io Per quanto Cioè vi giuro È un paio di giorni Che Minecraft Vanilla Mi lagga davvero Da panico Diciamo Perché davvero Davvero tanto Allora Visto che è notte I zombie ancora Non si sono avvicinati Cioè ancora non sono venuti Dai loro amichetti Che cosa hai tu? Guardate Su 5 scheletri 3 hanno L'arco incantato Ok andiamo Cioè devo andare Ragazzi mi spiace Ma Allora Primo obiettivo Uccidere il creeper Se lo Se lo prendo Ok l'ho preso E poi Uccidere Gli arcieri Ok Vai Iniziamo con te Vai 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 Eh lo so Il lag è davvero Mostruoso È imponente In Minecraft Vanilla Blue light Contro lag Non so se li sto colpendo Se sono già morto Tipo Ma io continuo Ok uno l'ho ucciso Mi ha tirato una Ah è vero Ah no non è vero il cacchio Non ce l'ho Torn L'ho lasciata nella cesta Mi stanno tirando frecce random Forse sono morto ragazzi Ma non lo Ok ho preso danno L'importante è quello Ok Manca solo questo Aia Devo mangiare anche Mamma mia il lag Dai muori Mi sta distruggendo tutta la spada E lui non prende danno Mangiamo Ok Il lag è davvero molto Non ho mangiato Ok si Dai prendilo Ti meno con la spada Con la pala Col piccone Con l'ascia Ok Adesso aspetto che mi dia il drop Ok frecce 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 os Livello 5 Altra esperienza Non ho visto archi Vediamo No Nessuno dei 3 Che c'aveva L'arco incantato Mi ha droppato l'arco Ma si formano Ma si creano in gruppo Cioè Spawnano in gruppo Sti Ecco Stanno arrivando i primi I primi visitatori Ciao No 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 Tranquilli Tranquilli Vado a casa Tranquilli Tranquillissimi Che vado a casa Ok zombie Vanno a godersi Lo spettacolo Mentre i villager Scappano Ah non ho visto Se si è spawnato Un iron golem Ok andiamo Prima a dormire Ok Andiamo prima a dormire E poi vediamo Se è spawnato E poi vediamo se è spawnato Un iron golem Va Non lo so Perché Non lo Cioè Non ho visto Se è verso i villager Perché di solito Si vede anche da qua Perché Naturalmente È più alto Dei villager No Ancora Ancora non è spawnato Non lo vedo Facciamo un attimo Una cosa del genere Stando attenti A zombie Allora vediamo No Sono tutti villager Qua c'è una torcia No Sono tutti villager Il golem Ancora non è spawnato Ok perfetto Questo blocco L'avevo tolto Però va bene Questo Cioè Notate il lag Questo si chiama Lag Mostruoso Proprio Da panico Lag da panico Si dice Lag da panico Quel lag Che è davvero Da panico Cioè Non si chiude la porta Mi rompo una spada in ferro Per uccidere tre scheletri Questo è il lag da panico Allora ragazzi Per questo episodio è tutto Spero vi sia piaciuto Allora In pratica Vi ho spiegato Come era la struttura Dove l'ho presa Quanti villager ci sono Eccetera eccetera Ucciso un iron golem Ucciso l'iron golem E non mi ha dato l'achievement Comunque Vi ricordo di lasciare Un mi piace Di commentare Se non l'avete ancora fatto Di iscrivervi al canale La pagina facebook È in descrizione E anche il sito web Quindi Ciao a tutti da Blue Light Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.